Una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Tre momenti per certi versi opposti per tre compagini accomunate dalla regione di provenienza. Riscatto Foggia, rimpianto Monopoli, crisi Fidelis-Andrea. Sono questi i verdetti emessi dall'ultima giornata di campionato del girone C di Serie C. Una giornata che ha visto sorridere la formazione rossonera, abile e imporsi in rimonta sulla stessa Fidelis in uno dei derby più sentiti della stagione. Terzo risultato utile consecutivo, sette punti negli ultimi 270 minuti e una classifica che adesso finalmente lascia margini di speranza. La zona play-off, obiettivo dichiarato alla vigilia, dista appena due lunghezze e la cura gallo sembra funzionare. Al prossimo appuntamento sul campo della Viterbese il compito di dar continuità a quanto visto di recente. Già, la Viterbese, la stessa squadra che superando il Monopoli, il Veneziani lo scorso 8 ottobre diede avvio al momento nero del Gabbiano, culminato con l'esonero di la terza nel post sconfitta interna con il Catanzaro. Al suo posto Pippo Pancaro, il cui esordio al cospetto di un'altra realtà reaziale come il Monterosituscia, è terminato con un berfardo segno X. Prima l'iniziare svantaggio, poi la rimonta con le reti di Piccini e Falbo e a tempo praticamente è scaduto la doccia ghiacciata. La vittoria in casa Biancoverde manca ormai dall'inizio del mese. Contro il Messina domenica, tra le mura amiche, il risultato a disposizione sarà soltanto uno. Discorso simile per la Fidelis Andrea, riprecipitata dopo appena quattro giorni di distacco in ultima posizione in classifica. L'affermazione contro il Messina, unica della stagione fino a qui, è già un ricordo lontano. Per il destino di mister Cudini e del direttore sportivo Federico sarà decisiva la trasferta di domenica sul non semplice campo della Gelbison. O la vittoria o la rivoluzione tecnica, non ci sono più vie di mezzo.